E' stato inaugurato questa mattina il nuovo padiglione del liceo classico Colletta di Via Scandone. Il nuovo anno scolastico in città per alcuni è cominciato ieri, nel resto delle scuole la campanella suonerà come da calendario regionale domani. Torneranno in classe anche gli studenti del liceo scientifico Mancini, per i quali quest'anno sono state individuate tre sedi, a differenza delle sei dello scorso anno. Ma il pensiero domani sarà rivolto principalmente all'udienza per l'incidente probatorio sulla sede storica del Mancini. Il risultato ultimo non è determinare la vicenda giudiziaria, ma quella di assicurare i ragazzi circa la qualità della struttura che li dovrà ospitare. Noi l'avevamo fatto attraverso una perizia, come una serie di altre perizie che avevamo commissionato a una serie di università. Su questa perizia si è aperta una vicenda giudiziaria che speriamo che possa concludersi nel più breve tempo possibile e che soprattutto possa restituire ai ragazzi la loro sede naturale. Tutto sommato sembra che il nuovo anno scolastico sia cominciato senza grandi difficoltà, anche se il tema della sicurezza fa sempre discutere di timore, in particolare da parte delle famiglie non mancano mai. Ma il consigliere provinciale è già quinto a dare rassicurazioni. Quello che interessa in modo evidente è la sicurezza statica. Noi abbiamo avviato, come voi avete più volte raccontato, una serie di indagini che sono partite dall'indagine sui solai, sono passate attraverso ulteriori investimenti che ci hanno consentito di fare delle indagini sulla staticità e sulla vulnerabilità sismica, laddove ne avevamo avuto la necessità di approfondire alcune tematiche. E questo arricchisce quel patrimonio, quell'anagrafe scolastico. Da questo punto di vista quali sono le condizioni degli istituti? Guarda, da questo punto di vista penso che la qualità della struttura scolastica della provincia di Avellino è un'ottima qualità. Basta farsi obiettivamente un giro.